Uno dei test che facciamo agli atleti androni giocati di Venezuela è il test metabolico. Il protocollo di test prevede un incremento di 10 Watt ogni minuto, partendo dal primo step che è uno step di assestamento della frequenza cardiaca che dura 3 minuti, partendo più o meno a 3,5 Watt a chilo per l'atleta. Nel caso di Oma si parte da 280 Watt con incremento di 10 Watt ogni minuto fino al massimo del vattaggio che riesce a tenere come prestazione massimale. I dati sono registrati da questo strumento che si chiama KeyShot e in diretta sullo schermo del PC come relazione viene presa anche la frequenza cardiaca. Questi parametri vengono poi messi in un software dove viene elaborati i parametri di allenamento e il fattore di prestazione.